Eccoci ragazzi bentornati sul mio canale oggi parleremo un po' dell'intelligenza artificiale dedicata al mondo Apple in casa ma anche con dei prodotti proprio tangibili parleremo dei presunti occhiali in arrivo appunto da Apple e tante altre chicche perché nella newsletter Power On arrivata nel fine settimana da Gurman sono uscite alcune delle chicche veramente interessanti riguardanti il futuro di Apple mettetevi belli comodi come sempre un bel mi piace commento e descrizione mi raccomando tantissimo per supportare far crescere il mio canale e soprattutto vi ricordo lo sponsor del video Enebba ogni acquisto che farete tramite link in descrizione supporterete il mio canale troverete di tutto e di più dai giochi nuovi ai giochi del passato alle gift card agli abbonamenti ma soprattutto anche gift card per comprare sui tunes Netflix Amazon chi più ne ha più ne metta troverete veramente una marea di roba ma non ci perdiamo in chiacchiere partirei innanzitutto con due notizie molto interessanti la prima sempre portata da Gurman che ha dichiarato che Apple starebbe lavorando su un modello di occhiali intelligenti ma anche delle airpods con fotocamere integrate per un potenziale rilascio nel 2027 questi dispositivi dovrebbero essere appunto avvicinati e messi insieme alle cuffie vision pro per avere bene tre prodotti di questa saga nella sua newsletter power on Gurman dice che il vision production group di di Apple starebbe guardando oltre il vision pro e quindi sta consegnando di lanciare degli occhiali intelligenti paragonabili alla collaborazione fra meta e i Ray-Ban gli occhiali intelligenti e gli airpods dotati di fotocamera integrata avranno lo scopo di utilizzare i miliardi di dollari investiti nell'intelligenza artificiale da Apple nel mondo del vision pro e quindi questa tecnologia permetterà di analizzare l'ambiente circostante e anche fornire delle informazioni pertinente agli utenti quindi veramente sembrerebbe che Apple questa volta voglia intervenire in maniera importante in questo settore diciamo dopo il flop non flop del vision pro ma proprio sulla questione vision pro flop o non flop la stesso Gurman ha chiarato che Apple starebbe anche lavorando a quanto pare ad un modello di vision pro più economico a quanto pare un Apple vision da 2000 dollari che potrebbe già debuttare nel 2025 dice Gurman che per aggiungere il prezzo più basso l'Apple vision potrebbero utilizzare un processore meno potente e materiali più economici rispetto all'attuale alluminio e vetro il dispositivo dovrebbe anche omettere alcune caratteristiche non essenziali come il display e i site che mostra gli occhi all'utente all'esterno dell'auricolare quindi Apple potrebbe utilizzare display più grandi ed una risoluzione inferiore per questa diciamo versione più economica più diciamo entry level che tanto entry level non è perché 2000 dollari non sono pochi però potrebbero cominciare a far avvicinare un'altra fetta di mercato perché appunto il taglio attuale degli oltre 3500 dollari per il modello principale sono veramente tanti staremo a vedere vi terrò aggiornati in merito a questa notizia che potrebbe arrivare e quindi questo dispositivo tra la fine del 2025 e il 2026 ma altra notizia molto interessante da Gurman avevo già parlato nei giorni passati perché lo stesso Gurman aveva parlato in un'altra newsletter di power on è la questione Apple e casa intelligente la stessa Apple sembrerebbe questa volta propensa ad entrare a gamba tesa nel mondo del diciamo dell'intrattenimento e della proprio di intermediazione all'interno di casa tra l'utente e l'ecosistema a casa dice proprio lo stesso Gurman l'azienda sta per conquistare la casa intelligente con una nuova strategia aggressiva mettere schermi e software Apple in tutta la casa perché era un'esperienza end to end quindi non soltanto il software di cui abbiamo parlato l'home OS che dovrebbe essere il software dedicato a questi dispositivi dentro a casa si parla come sapete di un tablet che dovrebbe permettere appunto di fare videochiamate interagire consigliere intelligenza artificiale risposte eccetera eccetera ma anche una sorta di display dotato di un braccio robotico quindi diverse funzionalità che a quanto pare dovrebbero arrivare all'interno del gioco e di all'interno di casa e che cosa dice Gurman nei prossimi due anni mi aspetto che l'hardware domestico sia una priorità assoluta per Apple la spinta includerà lo sviluppo di un nuovo sistema operativo come OS e un display intelligente nonché un dispositivo da tavolo robotico di fascia alta inoltre dice che il rinnovato sforzo segue anni di prestazioni mediocre in questa categoria infatti ha preso schiaffi prima da Amazon e poi da Google è uno dei motivi per cui Apple ha lottato e la sua intenzione di creare dei prodotti premium è quella di spingere soprattutto in un sistema chiuso questo ovviamente non è una strategia efficace nella casa intelligente dove ovviamente i consumatori vogliono strumenti attrezzature e quant'altro che possono utilizzare con tanti altri prodotti ecco perché la stessa Apple vuole sia collegare la questione dell'hardware che possa supportare il maggior numero di accessori e soprattutto vogliono anche che i dispositivi della casa intelligente possano collegarsi e soprattutto possono avere un protocollo chiamato Matter che permette quindi l'integrazione con dispositivi ad esempio Apple, Amazon, Google per appunto farli comunicare tutti in sé quindi non soltanto un sistema operativo dedicato ai dispositivi Apple ma Gurman secondo le sue informazioni potrebbe sapere che appunto questi dispositivi hardware non soltanto avranno il diciamo protocollo di sviluppo con il software OM integrato ma queste attrezzature dovrebbero appunto comunicare anche con i dispositivi diciamo di terze parti questo permetterebbe sicuramente ai consumatori di avvicinarsi di più e non ovviamente diciamo una nicchia chiusa come vi dicevo precedentemente quindi l'AI governerà il funzionamento appunto di questi prodotti e dice che ad esempio il dispositivo da tavolo utilizzerà l'intelligenza artificiale per comprendere l'ambiente circostante in modo da poter percepire chi sta guardando lo schermo cosa stanno facendo le persone e chi sta parlando e quindi questa cosa potrebbe essere il primo e vero e proprio prodotto costruito da zero per Apple quindi per quanto riguarda la casa intelligenza artificiale e HomeOS proprio in merita HomeOS dicono che Gurman dice che questo sistema operativo sarà costruito sulle basi di TVOS il sistema operativo come sapete per l'Apple TV e l'azienda come sapete recentemente ha anche rinnovato la sua app la sua applicazione Home quindi staremo a vedere se effettivamente Apple questa volta è pronta ma soprattutto se i suoi prodotti sono maturi e soprattutto se questi prodotti come dice Gurman avranno la possibilità di comunicare con i terzi oppure continueranno a rimanere di nicchia ma stando quello che appunto riporta il giornalista sembrerebbe che Apple sta iniziando ad aprire un po' diciamo un po' a togliersi un po' i paraocchi ma soprattutto per il fatto che soprattutto nelle case la questione iPhone Mac e via dicendo viene in secondo momento dentro alle case ci sono di tutti i tipi e qualità da dispositivo Google a un dispositivo Alexa e via dicendo e quindi hanno tutta intenzione sicuramente di spingere l'hardware per avere la possibilità di comunicare con tanti altri vi terrò aggiornati in merito a tutte queste notizie fatemi sapere quella che vi incuriosisce di più qui sotto con un commento noi ci vediamo ad un prossimo video